Notificato al comune di Roseto degli Abruzzi il verbale di revoca di sequestro dell'area Circenza in pronsività del litorale sud e del centro di raccolta comunale insistente in località Santa Lucia, zona Autoporto. Si tratta di una buona notizia per il comune costiero che mette dalla parola fine ad un'annosa vicenda. Le due aree infatti erano state poste sotto sequestro nel luglio del 2017 dalla Guardia di Finanza per difformità. Sì, era uno dei punti importanti del nostro programma, quello di ridare alla città una possibilità di avere un ecocentro. Ricorderemo che la scorsa amministrazione non chiese neanche il dissequestro e gli stessi, tant'è che si è proceduto semplicemente tra privati e purtroppo è andata avanti in una scelta impropita quella di sistemare, di progettare un centro di raccolta e di riuso all'interno del centro cittadino. Noi invece abbiamo un'altra idea, questa sicuramente è una buona notizia per la città di Roseto perché sono due aree strategiche che diventano da oggi, anzi da ieri già disponibili. Sono quella dell'autoporto dove sapete abbiamo presentato anche un progetto di economia circolare per un nuovo centro di raccolta e del riuso e quella dell'area circense dove noi abbiamo in mente di avere uno sviluppo turistico e di eventi importanti per la città. Insomma Roseto torna a respirare in maniera importante e avrà da subito, abbiamo attivato con gli uffici già le pratiche per rendere importante e immediatamente disponibile l'ecocentro per lo smaltimento degli ingombranti e per far sì che delle necessità per i cittadini, quella di poter smaltire in tempi rapidi, certi e soprattutto senza lunghe attese dei beni che devono essere dismessi, non avrà più bisogno appunto di grande attese ma sarà immediatamente disponibile. Insomma una buona notizia per i cittadini, una buona notizia per la buona amministrazione.